Stiamo di fronte a una vera chicca per veri fan e collezionisti di Riccardo Fogli. Stiamo parlando di una musicassetta davvero rara e introvabile di Riccardo Fogli, che ha avuto la fortuna di comprare su ebay a soli 84 euro. Stiamo parlando della musicassetta Riccardo Fogli 4 e di una bellezza veramente estrema. Questa non era facile da trovare e non è neanche facile da possedere e io davvero fans la posseggo. Questa è il label. Vi leggo i nomi delle canzoni per chi non lo savesse. Il lato A, Dio come vorrei, il mio grande avvenire, quando nascerò di nuovo, buone vibrazioni, torna a sorridere. Il lato B, cioè il lato 2, sulla buona strada, i giornali di domani, scale e meglio se amore non diventerà, voglio sognare. E' un qualcosa di veramente stupendo, veramente, veramente. Soltanto nel mio gruppo potete ammirare queste splendide meraviglie. Stiamo parlando di Riccardo Fogli, il mio idolo. Cantante straordinario della musica italiana, di cui sono fan dalla nascita. E avere una chicca così per me è un onora, è un onora, veramente, un orgoglio. Compratela, mi raccomando, non è facile, però prima o poi le novità sempre salteranno fuori. Riccardo Fogli 4